Vediamo che l'antisemitismo ne ha proprio anche presso famiglie, benestanti comunque volute e culturalmente interessate, voleva imparare l'italiano, questo signore. Cosa ci può dire questo proposito? No, ma questo è un dato di fatto, non si sa cosa dire di fronte a questi apprezzamenti se non teniamoci attenti, voi siete giovani in particolare, stiamo attenti, non ci sono, bisogna pensare alle persone, non si può pensare per schemi idrologici diciamo.